L'arrivo delle prime navi da Crociera a Salerno dà il via alla stagione turistica. Gli esercenti e i commercianti sperano in una ripresa dopo mesi difficili. L'unica speranza, una boccata di ossigeno che potrebbe darci è l'arrivo dei turisti. Infatti siamo felici di queste notizie, pare che per Pasqua ci siano abbastanza prenotazioni. Il riarrivo delle crociere ci dà una grande speranza, l'unica boccata di ossigeno che potremmo avere. Ci auguriamo tutti che si possa avverare perché fino a questo punto la città sembra abbastanza deserta. Le vendite sono proprio ristrette, limitate e stiamo soffrendo tanto. Aspichiamo la bella stagione con l'arrivo dei turisti sia per noi ovviamente anche per i commercianti di Salerno. Queste domeniche ci hanno preso alla sua vista, nel senso che all'improvviso verso le 7 e un quarto abbiamo visto proprio dei gruppetti di turisti che stavano arrivando. Quindi vuol dire che è un buon segnale con l'arrivo delle navi e dei turisti. Ma qua non arrivano, qui lo vanno in cosina amalfitana. Qua non c'è niente da vedere, Salerno non propone niente. Magna, secondo lei, cercare di attrarli? Infatti, Salerno a me mi sembra un po' sporco, proprio abbandonato. Io vengo da Napoli e qua queste cose che vedo quando le ho viste a Napoli. Adesso con le belle giornate dovrebbe muoversi un po' il settore internazionale, diciamo. Nonostante Putin fa di tutto per bloccare il dopo Covid, insomma. Resistiamo, combattiamo e guardiamo avanti con serenità.